Torniamo alla notizia d'apertura di questa edizione di Tg1, ovvero il sabato di guerriglia che si è registrato in concomitanza della manifestazione dei no green pass in diretta da Palazzo Chigi, sede del governo, ci aggiorna Giacinto Pinto. Dopo ore di guerriglia urbana nel centro di Roma la situazione lentamente sta rientrando verso la normalità, però c'è ancora tanta tensione qui nel centro della capitale. E' sceso il buio e centinaia di persone si trovano ancora in queste strade, intorno ai palazzi delle istituzioni. Poco fa davanti a Montecitorio alcuni manifestanti Novax hanno occupato la sede stradale. Quindi c'è ancora tensione, ci sono state delle cariche della polizia in piazza Montecitorio, in piazza del Parlamento e ancora presto per fare dei bilanci da fonti ufficiali della Questura di Roma. Sappiamo che ci sono sicuramente dei fermati e ci sono anche dei feriti. Sicuramente c'è un poliziotto ferito, non si conoscono ancora le sue condizioni. Pochi minuti fa anche a Milano ci sono state cariche della polizia nei confronti del corteo Novax che cercava appunto di andare verso la stazione centrale e le cariche della polizia verso la testa del corteo. E poi vi dobbiamo dar conto della telefonata del Presidente del Consiglio Mario Draghi che oggi ha telefonato oggi pomeriggio al Segretario Generale della CGL Maurizio Landini per esprimere a lui e a tutto il sindacato la piena solidarietà del governo per l'assalto avvenuto oggi alla sede di Roma. I sindacati, ha precisato il Premier, sono un presidio fondamentale di democrazia e dei diritti dei lavoratori. Qualsiasi intimidazione nei loro confronti è inaccettabile e da respingere con assoluta fermezza. Linea allo studio. Allora, grazie a Giacinto Pinto che appunto ci riferiva di questa telefonata del Presidente del Consiglio ma le agenzie hanno appena battuto la notizia della telefonata del Presidente della Repubblica Mattarella.